Entro il prossimo giugno la progettazione esecutiva, a fine anno la gara per l'assegnazione dei lavori, entro il 2022 la consegna, chiavi in mano. E' questa la roadmap indicata ieri pomeriggio a Gualdo Tadino, presso il Teatro Talia, da Regione, Asle 1 e Comune, per la riapertura dell'ex ospedale Calai. Presenti sul palco, insieme al sindaco Massimiliano Presciutti, l'assessore regionale Luca Barberini, il direttore generale dell'Asle 1 Andrea Casciari, l'ingegnere dell'Asle Fabio Pagliaccia. Il progetto preliminare è quello che era già pronto nel 2016, ma che è stato bloccato nel suo iter dal ricorso degli eredi Calai, che rivendicavano diritti di proprietà sulla parte storica dell'immobile. Chiusa la vicenda giudiziaria, con il rigetto dell'istanza presentata dai richiedenti, in questo 2019 si parte con progettazione gara, il cantiere nel 2020. Verrà abbattuta la stecca sulla quale si è appuntata la critica delle opposizioni in consiglio e fuori, nella parte storica, verrà trasferito l'archivio dell'Asle al piano seminterrato per un totale di 1340 metri quadrati. Il piano rialzato ospiterà il centro prelievi, il CERT, il GOAT, Servizio Alcologia e la Guardia Medica per un totale di 475 metri quadrati. Successivamente, a fianco a queste strutture, troverà spazio il centro diurno socio-riabilitativo per adulti, il Germoio. Il trasferimento del centro, con 20 posti dedicati alle patologie croniche, permetterà, oltre ad un miglioramento degli standard igienico-sanitari, una migliore fruizione degli spazi, con notevoli benefici per l'utenza. Al settore della riabilitazione sarà interamente dedicato il primo piano, con il trasferimento della riabilitazione cardiologica, medicina dello sport, riabilitazione per adulti, nonché due palestre. Il secondo piano ospiterà il centro di salute mentale, il servizio integrato e tavolutiva, i servizi sociali. Una vasta area, 317 metri quadrati, sarà riservata ai poliambulatori. L'ultimo piano, il terzo, verrà utilizzato per il consultorio, l'ambulatorio vaccini, gli uffici amministrativi. Verranno messe sul mercato le palazzine nuove che si trovano oggi, dietro la stecca totale dell'investimento regionale, 2 milioni e mezzo di euro. L'intervento è un intervento che dà una risposta definitiva alle esigenze dei bisogni di salute della città di Gualdo Dadino. Lo fa con un intervento di riqualificazione importante, lo fa un intervento di riqualificazione che portiamo avanti, avendo già le risorse finanziarie disponibili per realizzare tutto quello che abbiamo in mente di fare. Ovviamente all'interno della struttura ci saranno tutte le attività territoriali e distrettuali, e quindi il distretto e l'attività sull'eventuale disabilità per adulti. L'opportunità di inserire una delle tradizioni che erano di questa città, che è quella della riabilitazione, in particolare riabilitazione cardiologica e pneumologica. Pensavamo anche di ottimizzare al meglio questa struttura con un eventuale inserimento di residenza sanitaria estetica, di RSA, quindi per fare una sorta di pacchetto di offerta complessiva che risponda in maniera adeguata ai bisogni di salute di questa città. Nel suo intervento il sindaco Presciutti ha invitato a superare le divisioni sulla questione dell'abbattimento della stecca. Abbiamo perso troppo tempo, ha detto. Ora finalmente si parte.